dubbio ompletico su cosa preparare per cena? niente paura con questo saporitissimo e profumatissimo polpettone vedrai che in poche e semplici mosse otterrai un pasto davvero dal re ma andiamo a vedere cosa ci serve due patate grandi parmigiano quanto basta un 150 g di salmone affumicato di buona qualità un uovo mezza cipolla otto carciofi una mozzarella qui ne vedi due perché erano piccole pangrattato olio e spezie quanto basta grazie a tutti ed eccolo pronto l'ho trasferito su un piatto da portata come visto dal procedimento è veramente semplicissimo da preparare e anche velocissimo il che è un punto a suo favore oltre che è buonissimo già mi ho assaggiato un pezzettino che qua era rotto ed è la fine del mondo molto saporito cioè è meraviglioso veramente il salmone si vede tutto non so se puoi notare come fila provalo perché ne vale realmente la pena e se la ricetta ti è piaciuta ricordati di iscriverti e condividi questa ricetta sui social